Tutti in campo di domenica o quasi un inedito per questo avvio di campionato spezzatino nel girone C di Serie C. Se Catania, dove arriva il Bari, sarà uno dei campi centrali, Monopoli, dove lunedì sera alle 21 e atteso l'Avellino, sarà all'apice di un turno che vede ai nastri di partenza i bianco-verdi di Alberto Colombo, isolati in prima posizione con 9 punti. Al Veneziani sarà anche serata di solidarietà con l'iniziativa un gol per Iris, ragazza monopolitana di 21 anni colpita da un'emorragia cerebrale nell'ottobre 2020. Per l'occasione saranno a disposizione delle tifose 100 biglietti gratuiti nel settore curva e 50 tra i distinti. Domenica alle 14.30 entra invece nel vivo il programma del turno numero 4. Il Taranto, imbattuto dopo tre giornate e con già sette punti nel carniere, viaggia sul campo di una paganese che nello scorso weekend ha trovato la prima vittoria nel torneo. Prova di maturità per il club di La Terza, sarà invece di scena a Messina la Virtus Franca Villa di Roberto Taurino, eliminata dalla Coppa in settimana per mano della Fidelisandria e in cerca di un altro blitz esterno in campionato, dopo quello di sette giorni prima al Dei Ulivi. Trasferta in direzione Lazio per il Foggia di Zeman, che dopo aver parzialmente riscattato il KO contro la Turris grazie al 2-0 di Coppa contro il Messina, cerca ulteriori conferme sul campo dell'Atena. Formazione in salute, reduce dal pari di Avellino. Il Picerno, alla ricerca del primo gol in campionato, sarà ospite della Turris, mentre il Potenza va a caccia della prima vittoria nel torneo. Al Viviani arriva alla matricola Monterosi, altro club ancora a digiuno di successi in questa C. Chi delle due sfaterà il tabù?